Numero 6, anelatore Antonio, con il numero 30 Marco, numero 5, Eccelo, numero 6, Paul Lapine, numero 10, Garnos, numero 14, Fernando, numero 15, Andrea, Antonio, numero 19, Leonardo, Marucci, paglia numero 21, Andrea, Silvio, numero 22, Cuomo, Andrea, numero 23, Arturo, Silvio, numero 33, Maurizio, Silvio, a disposizione con il numero numero 1, Buffon, 50, Cessi, con il numero 1, Fink, e con il numero 4, Arturo, Garnese, andrata, Gocicic, ma del numero numero 12, Silvio, 12, Silvio, con il numero 16, Marta, numero 6, Paul Lapine, 26, Lucifer, e con il numero 27, Marierella, Bianconeri, sulle scelte, e ancora una volta, Vino alla fine, Pontevoli! Giorno, Bianconeri, back República, Giorno, Bianconeri, indivisario, e ancora una volta, Vino alla fine, Pontevoli! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti